Addio a Chad MC Quinn. L'attore, produttore e figlio della star Steve MC Quinn si è spento a 63 anni. Secondo quanto riportato da TMZ, l'uomo è morto mercoledì nella sua casa di Palm Desert, in California. Impossibile non ricordare la sua interpretazione in Karate Kid dove vestiva i panni di Dutch. Nel 2020 MC Quinn era rimasto ferito dopo una bruttissima caduta e da allora non si era mai completamente ripreso, come afferma un suo amico. Ad annunciare la morte, i figli Chase e Madison e la moglie Jimmy. Con dolore annunciamo la morte di nostro padre Chad MC Quinn. Il suo notevole viaggio come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno davvero costituito l'esempio di una vita piena di amore e dedizione. Il suo avvocato ha confermato la morte dell'attore e ha affermato che soffriva di insufficienza d'organo causata da una ferita riportata anni prima. Il giorno della morte, Chad era con i figli Chase e Madison, la moglie Jimmy e l'avvocato Arthur Barents. Nato a Los Angeles il 28 dicembre 1960, Chad MC Quinn è noto soprattutto per il ruolo di Dacin, The Karate Kid, per vincere domani, 1984, e nel sequel, The Karate Kid II, la storia continua, 1986. La sua interpretazione di uno dei membri del Cobra Kai è stata un'icona della cultura pop degli anni Ottanta. Il suo personaggio aveva un atteggiamento spietato e incoraggiava Johnny Lawrence, interpretato da William Billy Zabka, a picchiare brutalmente Daniel LaRusso, Ralph Macchio, durante la notte del ballo di Halloween. Il suo personaggio, inoltre, deride e minaccia il nativo del New Jersey prima del torneo All Valley. Durante la seconda stagione della serie televisiva, Cobra Kai, è stato rivelato che Dacin scontando una pena in prigione. Sebbene si sia parlato di una possibile partecipazione di MC Quinn alla serie, problemi di programmazione lo hanno poi impedito. Chad MC Quinn ha continuato ad apparire in altri film d'azione, come Night Force, 1987, Marshall Law, Codice Marziale, 1990, New York Undercover Cup, 1993, Firepower, Il Ring della Morte, 1993, Notte di Tenebre, 1994, Red Line, 1995, e L'Istinto della Caccia. L'incidente del 2006. Ma l'attore si era principalmente dedicato alla sua passione per le corse automobilistiche, partecipando a eventi come la 24 Ore di Le Mans e fondando la MC Quinn Racing, che sviluppa macchine e moto. Nel 2006 la sua carriera come pilota era finita a causa di un incidente in cui aveva quasi perso la vita durante l'evento Daytona International Speedway S Rolex. MC Quinn era sposato con Ginny e ha avuto i figli Chase, Madison e Steven, attore famoso per aver recitato in The Vampire Diaries. La famiglia. La famiglia ha dichiarato a Variety, è con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre, Chad MC Quinn. Il suo straordinario percorso come padre amorevole nei nostri confronti, insieme al suo incrollabile impegno nei confronti di nostra madre, sono stati un vero esempio di una vita piena di amore e dedizione. La sua passione per le corse non solo metteva in luce il suo talento eccezionale, ma serviva anche per onorare l'eredità del padre, a testimonianza dei valori instillati in lui. Ci ha trasmesso la sua passione, la sua conoscenza e la sua dedizione, e noi continueremo a portare avanti non solo la sua eredità, ma anche quella di nostro nonno.